Ciao, sono Carlo Trentin e leggo Press Donna. Tra i libri della Biblioteca di Presenza Donna ti consiglio di leggere Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, editrice La nave di Teseo. Joyce Carol Oates, autrice enormemente prolifica, racconta una storia impietosa di una famiglia appartenente a quella parte della società americana bigotta e puritana che preferisce rinunciare ad una figlia se messa davanti a una verità difficile. Un personaggio femminile forte e coraggioso, pronto ad affrontare a testa alta tutte le difficoltà che la famiglia e parte della società che la circonda, le caricherà sulle spalle per aver raccontato alle autorità un delitto imperdonabile, non tanto per essere stata sincera, ma per aver in questo modo tradito la sua famiglia. Cercherà e troverà in se stessa, con una lucidità che non immaginava, gli strumenti per superare l'incomprensione, l'indifferenza e la violenza che l'ha, fin da piccola, circondata. Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, puoi prenderla in prestito nella Biblioteca di Presenza Donna. Nella descrizione del video troverai tutti i riferimenti. Leggi Press Donna.